Tu non sei soddisfatto perché non fai quel cazzo che ti pare nella vita. Che responsabilità c'hai? I figli? I figli tu devi avere la responsabilità di fargli vedere un padre felice. Non un padre infelice. I tuoi figli hanno bisogno di innamorarsi di te. E si innamorano di te quando vedono un padre coraggioso. Loro vogliono vedere un padre contento, un padre soddisfatto. Tua moglie vuole vedere un marito soddisfatto. Un marito che ama se stesso. E solo quando tu sei così affascini e vieni ammirato. Tu per cosa sei nato? Ritorna indietro a quel momento e ricorda di cosa sognavi. Qual era la cosa che ti faceva sfuggire il tempo dalle mani? Certe decisioni devi essere folle per prenderle. A nostre Non puoi pensare di cambiare la vita. Di essere una persona originale, unica, se ragioni normalmente. Tu devi essere matto. Devi essere folle. Devi essere un sognatore. Devi tornare ad essere come eri da bambino. Io lo so benissimo quello che provi. Perché ti rompe i coglioni, i coglioni, i coglioni. Io lo so benissimo quello che provi. Io ti esorcizzo, io ti ordino. In nome del giudice dei vivi e dei morti di uscire da questa serva di Dio. Io ti esorcizzo, io ti esorcizzo, io ti esorcizzo, io ti esorcizio, 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 io ti esorcizio,